carissimi amici salve a tutti benvenuti benvenuti sul canale stasera c'è una riflessione che diciamo indirettamente riguarda il caso il caso denise veramente è una notizia che mi dispiace pure un poco che abbia guadagnato le pagine di cronaca riguarda la forse lo sapete già la giornalista ilaria mura la giornalista ilaria mura che una giornalista di mediaset che si è occupata spesso anche con i collegamenti del caso denise anche a quarto grado ma non solo io ho avuto anche modo di conoscere ilaria mura e che è una è una della giornalista della sardegna che però automobili conoscere personalmente è una grande professionista e la conobi proprio proprio qui diciamo dove nella zona dove abito quando all'epoca ci fu la tragedia della costa concordia quindi vi lascio immaginare comandante schettini e compagnia bella quindi all'epoca ebbi modo di incontrarla e di vedere innanzitutto la sua umanità innanzitutto e quindi oggi sentire dire che al tribunale di marsala e si inizia il processo perché per favoreggiamento perché lei avrebbe in una intervista insomma fatta gas per galeb avrebbe praticamente invitato c'è fatto capire al galeb di non parlare in macchina perché nella macchina vi erano vi potevano essere delle micro spie emesse dalla polizia e quindi e quindi il reato di favoreggiamento perché lo avrebbe avvisato ora a parte che mi sembra una cosa veramente fuori luogo questo perché parlare di favoreggiamento significa che una persona vuole favorire l'altra persona quindi come come mai pensare che una giornalista che vuole fare proprio una intervista a gas per galeb per cercare di di prendere qualche 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 spunto sul fatto di denise poi lo voglia favorire dicendo attenzione eh esci dalla macchina parliamo in disparte perché perché magari ci sono le micro spie invece invece non è così innanzitutto perché Ilaria Mura non è che poteva sapere se c'erano o non c'erano lei era un modo era un modo di diciamo capire un po' la fiducia di 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 questo giovane per cercare di fare il suo mestiere di giornalista cioè portarli in disparte cercare di avere la sua fiducia cercare di vedere se usciva dalla sua bocca qualche 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 parole in più di quelle non dette in tutti questi anni quindi è questo la la sostanza e quindi intavolare come dire incardinare per meglio dire un giudizio per favoreggiamento nei confronti di una giornalista come Ilaria Mura favoreggia me ma come si può pensare che una giornalista come Ilaria Mura possa favorire cioè possa fare in modo che Gaspar e Caleb non venga intercettato penso che sia fuori luogo quindi è una perplessità che è la stessa se vogliamo perplessità quando noi parliamo del processo che adesso è stato rinviato al 25 marzo con Maria Angione con la dottoressa Angione mi sembra che i processi di contorno cioè che hanno pochissima rilevanza e non contano quasi niente vengono vengono fatti vengono fatti abbastanza eh alla svelta mentre il problema fondamentale cioè il nocciolo della questione non si va mai ad affrontare ora dico io perché che poi accanirsi con questi giudizi adesso questa questo fatto di del favoreggiamento poi eh si tratta di una un'intervista abbastanza recente allora io mi chiedo ma perché in tutti questi anni no stiamo parlando dal dal fatidico primo settembre 2004 in cui fu sapita Denise fino fino ai giorni nostri ma perché non avete intercettato prima perché non avete raccolto tutti elementi utili contro questo gas pregaleb o contro altri che adesso per un episodio del tutto in buona fede andate ad ingardinare un processo perché aspettate oggi e non avete fatto ieri negli anni passati quello che ci sarebbe dovuto fare e poi abbiate pazienza io questo dico ma delle centinaia centinaia di intercettazioni ma perché invece di perdere il tempo così non si va a fare il lavoro di sviscerare di ripulire di riascoltare tutte le centinaia di intercettazioni perché tornando a gas pregaleb se voi pensate che quella in quel periodo era importante intercettare in macchina il galeb allora perché non vi chiedete perché il galeb all'epoca nel 2004 19 anni abbia rinnegato la conoscenza con con la jessica pulizia ad esempio no abbia rinnegato dopo migliaia e migliaia di telefonate abbia detto il falso abbia detto che dormiva quel giorno che non aveva visto niente perché non è andata a fondo su questo perché ad esempio non è andata ad intercettare non so la la sorella di gas pregaleb che si è sempre sottratta alle telecamere eppure c'è una macchina una ford fiesta una ford fiesta uguale a quella che si vide scordazzare per le strade di mazzare che era intestata a lei ma come pure i cani molecolari che si fermarono vicino a casa sua perché non è andata a intercettare a lei quindi vedete si attribuiscono dei valori differenti alle varie intercettazioni per non parlare quelle quelle a carica di anna corona eccetera quindi mi sembra come dire ecco voler invece di vedere il quadro nel suo insieme mi sembra che si vogliono vedere dei particolari che a mio avviso sono anche del tutto insignificanti così lo stesso discorso vale per la dottoressa angione perché quando noi diciamo che ultimamente è emesso il problema delle 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 quattro sim comprate a terni ed attivate ed attivate quel primo settembre 2004 sembra che questi sassi non cadono nell'acqua cadono in un prato deserto in un deserto proprio eppure eppure tutto ciò sta nelle carte processuali nessuno viene a fare una dichiarazione pubblica dire no guardate vi sbagliate perché quelle quattro sim furono attivate a terni da un dealer sconosciuto ma noi sappiamo che poi furono attivate ammazzate da queste persone tutte persone per bene che comunicavano fra di loro e con altre persone per bene perché abbiamo accettato tutto ciò tutto ciò non è avvenuto non è stato accettato non sono stati fatti i tabulati i tabulati diciamo di tutte le persone che in quella data stavano in quella zona e mi meraviglio mi meraviglio che ecco non vi sia questa spinta da parte degli organi di polizia e dagli organi e dalla commissione anche perché questa commissione di inchiesta io capisco per carità una volta magari l'emergenza covid in questi periodi adesso ci sta la crisi russa con l'ucraina però io mi aspetto che questi lavori della commissione vadano avanti perché noi non possiamo trovarci qui a commentare unicamente per il caso denise che sembra fermo nonostante le varie segnalazioni soprattutto da parte della dottoressa angione noi non possiamo stare qui a parlare della della cronaca attuale che dice la giornalista ilaria mura è stata rimpiata la prima udienza imputata di favoreggiamento perché aveva avvisato gas pregalebbe che potevano esserci come c'erano poi in effetti delle cimici di registrazione nella sua macchina ma cosa si vuole dire cosa si vuole dire la giornalista aveva fatto detto questa cosa ma per cercare non lo sapeva evidentemente ma per cercare di capire un po la fiducia di fare il suo lavoro a 360 gradi come pure la dottoressa angione se qualche cosa nelle sue dichiarazioni non avesse ricordato bene è inutile dire false dichiarazioni al pubblico ministero ma vediamo il stesso vediamo le cose fattuali le cose principali quindi adesso vabbè quando riguarda l'aria mura vabbè credo che voglio sperare che si risolvi una bolla di sapone poi per la dottoressa angione abbiamo visto il 25 marzo aspettiamo che anche per questo caso ci siano invece delle delle novità ci siano delle novità ve le potrei dare anche tutti i giorni ma per il momento non ce ne sono e queste sono queste piccole novità che invece fanno male perché si gira intorno al nocciolo e non si va mai a fondo però noi non molleremo la presa cioè noi saremo qui pronti a testimoniare qualunque cosa perché non finirà in questo modo questo è sicuro grazie mille alla prossima un abbraccio a tutti quanti voi grazie